Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui in questo video vi farò vedere che ho acquistato il nuovo gelato della Nutella, poi nei prossimi giorni usciranno anche dei video in cui parlerò del pescare, l'ultimo amichevole contro il delfino Curi finita 5-0, primo tempo un po' imbarazzante se conto 5 gol, però ovviamente gli amichevoli non è che contano di tanto poi non so se qualcuno l'avrà visto, il video di Baldini che mena Franchini, si dice che l'abbiamo menato perché Franchini è entrato duro su un giocatore della Primavera e infatti questo non si fa perché comunque erano compagni di squadra e quindi ha fatto bene secondo me Baldini perché ci vuole un po' di rabbia per far capire ai giocatori che non devono fare diciamo scemenza e poi anche ha sgridato Tunio perché si era messo in mezzo. Niente, la prossima amichevole ci sarà domenica contro alle 18 se non erro contro l'Altamura, speriamo bene, sono anche uscite le nuove maglie, niente, ciao ragazzi alla prossima!